Il treno Intercity giorno, 6-7-6, di Trenitalia, proveniente da Milano Centrale, è diretto a Livorno Centrale, delle ore 8 e 15, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a. Voghera, Genova Piazza Principe, Genova Brignole, San Margherita Ligure Portofino, Rapallo, Chiavari, Sestri Levante, Levanto, Monterosso, La Spezia Centrale, Carrara Avenza, Massa Centro, Via Reggio, Pisa Centrale. Il treno Suburbano S13, 24-486, di Trenord, per Milano Bovisa Politecnico, è in partenza dal binario 1. Ferma a. Certoso di Pavia, Villa Maggiore, Pieda Emanuele, Locate Triulzi, Milano Rogoredo, Milano Porta Vittoria, Milano Dateo, Milano Porta Venezia, Milano Repubblica, Milano Porta Garibaldi Sotterranea, Milano Lancetti. Il treno Reggio Express, 25-29, di Trenord, proveniente da Voghera, è diretto a Milano Centrale, delle ore 10 e 12, è in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a. Milano Rogoredo, Milano Lambrate. Il treno Intercity giorno, 6-7-6-7, di Trenitalia, previsto in arrivo da Grosseto, è diretto a Milano Centrale, delle ore 15 a 45, oggi non è stato effettuato, ci scusiamo per il disagio. Il treno, Intercity Notte, 56-48, di Trenitalia, proveniente da Milano Centrale, è diretto a 20 miglia, delle ore 19 e 12, è in arrivo al binario 2, invece che al binario 3. Allontanarsi dalla linea gialla. Treno in arrivo al binario 1, allontanarsi dalla linea gialla. Treno in transito al binario 5, allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione! Si rammenta, che vietato attraversare i, binari, servirsi da il sottopassaggio. Attenzione! È vietato aprire le porte esterne dei treni, quando non sono completamente fermi. Il treno suburbano S13, delle ore 10 e 36, per Milano Rogoredo, è in partenza dal binario 1. Avvisiamo che il treno suburbano S13, 64-56, di Trenord, terminerà la corsa a Milano Rogoredo per guasti sul passante ferroviario.